ciao e ti do il benvenuto nel mio nuovo video io sono giampiero teresi e sono l'autore del libro partita iva semplice del libro regime forfettario 2020 ma sono soprattutto l'autore del blog regime trattino forfettario punto it che è un blog di natura fiscale incentrato sul mondo delle partite iva dei libri professionisti incentrato soprattutto sul mondo del regime forfettario da una serie di settimane sto realizzando dei video specifici su alcune attività lavorative andando a spiegare per quella determinata attività quali sono tutti gli adempimenti burocratici da effettuare per poter lavorare in regola con il fisco in questo video voglio parlare di tutti coloro che sono dei consulenti marketing spiegando appunto cosa deve fare un consulente marketing per poter lavorare in regola col fisco inizio subito col dirti che non sempre è necessaria l'apertura di una partita iva esiste infatti uno strumento si chiama prestazione occasionale che lo stato ha messo a disposizione di tutti coloro che rispettano determinati requisiti chi adotta la prestazione occasionale non è obbligato all'apertura partita iva la prestazione occasionale però ha dei limiti ben precisi il primo è un limite temporale non si può utilizzare la prestazione occasionale per attività lavorative che durino più di 30 giorni consecutivi durante l'anno il secondo appunto un principio che il principio di occasionalità principio di occasionalità dice che si può lavorare al massimo una tantum con ogni singolo committente quindi se dovessi lavorare più volte l'anno per lo stesso committente non potrai più utilizzare la prestazione occasionale dovrai quindi obbligatoriamente aprire una partita iva un altro limite è dato dall'impossibilità di pubblicizzare la propria attività chi utilizza la prestazione occasionale non può pubblicizzarsi in alcun modo né con la presenza di volantini o obiettini da visita né con la presenza di un sito internet né con la presenza di una propria pagina facebook che sponsorisce le proprie attività di consulente marketing quindi se rispetterai tutti questi requisiti allora potrai emettere ai tuoi clienti delle ricevute di prestazione occasionale le ricevute di prestazione occasionale sono dei documenti fiscali validi come le fatture a differenza delle fatture non dovrai andare insieme il tuo numero di partita iva bensì il tuo codice fiscale e potrai trovare questi modelli direttamente scaricandoli su google oppure se dovessi averne bisogno contattami e te ne fornirò io stesso una copia all'interno della ricevuta di prestazione occasionale è presente la ritenuta d'acconto del 20 per cento in pratica il tuo committente tratterrà il 20 per cento dei tuoi compensi a titolo di ritenuta d'acconto e lo verserà allo stato entro il 16 del mese successivo come anticipo appunto sulla tua futura tassazione lo stesso committente l'anno successivo tra febbraio e marzo ti rilascerà una certificazione unica cioè un documento attestante l'avvenuta versamento delle ritenute d'acconto prendi questa certificazione unica porta dal tuo commercialista o porta all'interno della tua dichiarazione dei redditi però se tu vorrai sviluppare questa attività per più di 30 giorni durante l'anno o se vorrai lavorare più di una volta l'anno con lo stesso committente o se vorrai pubblicizzarti in qualsiasi modo con qualsiasi canale sarai obbligato ad aprire una partita iva in questo caso quello che ti consiglio è iniziare con una partita iva in regime forfettario questo perché questo regime ti darà una serie di vantaggi innanzitutto una tassazione più bassa le tasse infatti sono pari al 5 per cento per i primi cinque anni 15 per cento dal sesto anno in poi un altro vantaggio è che non avrai l'iva per cui quando emetterai una fattura ad esempio da 100 euro non sarà 100 più iva ma sarà 100 punta in bassa proprio perché l'iva non c'è non avrai neanche la ritenuta d'acconto per cui incasserà il 100 per cento dei tuoi compensi senza alcun tipo di trattenuta dovrai rispettare un limite di fatturato che dal primo gennaio del 2019 è stato innalzato a 65.000 euro annuali se un giorno dovessi superare questo limite uscirai fuori da regime forfettario il primo gennaio dell'anno successivo inoltre oltre al versamento delle tue tasse dovrai versare anche i tuoi contributi previdenziali tutti coloro che sono liberi professionisti ma che non hanno un albo di appartenenza dovranno versare i propri contributi previdenziali alla cosiddetta gestione separata inps che ha il vantaggio di non avere alcun costo fisso annuale ma tutti i contributi verranno pagati in percentuale sul fatturato immagina che se tu invece fossi stato un commerciante o un artigiano avresti dovuto pagare una quota fissa di contributi inps pari a circa 3.600 euro annuali da pagare anche se non fatturavi nulla qui non sarà così proprio perché non ci sono dei costi fissi ma sarà tutto in percentuale sul fatturato quindi se non dovessi fatturare nulla non avrai nulla da pagare la percentuale di contribuzione inps è pari al 25,72 per cento quindi ricapitolando 5 per cento di tasse o 15 per cento 25,72 per cento di contributi inps però sia le tasse che contributi andranno calcolati non su tutto il fatturato ma soltanto su una parte di esso nel caso del consulente marketing solo sul 78 per cento del tuo fatturato ti spiego meglio con un esempio immagina ad esempio di apri a partire di fatturare 10.000 euro di questi 10.000 euro il 22 per cento per cui 2.200 euro non ti verrà tassato perché lo stato ipotizza che tu quella quota l'abbia spesa per la tua attività sulla resante parte per cui su 7.800 euro quello rappresenta invece il tuo vero e proprio utile per cui le tasse del 5 per cento e i contributi del 25 per cento andranno calcolati non su tutti i 10.000 euro ma solo su questi 7.800 euro di utile questo è un po il funzionamento del regime forfettario adesso passiamo a un altro argomento come aprire partita iva da consulente marketing inizio subito col dirti che l'apertura della partita iva è assolutamente gratuita ed è immediata si effettua scaricando un'apposita modulistica si chiama modello a 9 12 che potrai scaricare presso il portale l'agenzia delle entrate la dovrai compilare in ogni suo campo e presentare presso qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate del territorio italiano ti verrà immediatamente rilasciato un certificato di attribuzione di partita iva sul quale già presente il tuo numero di partita iva immediatamente attivo all'interno di questo modello a 9 12 dovrai compilare una serie di dati importanti innanzitutto i tuoi dati anagrafici i dati relativi alla tua residenza i dati relativi alla tua sede dell'attività che attenzione se non hai un ufficio tuo potrà essere anche la tua residenza del tuo domicilio i dati relativi alla scelta del tuo regime fiscale che potrà essere il regime forfettario di cui abbiamo parlato ma potrà essere anche il regime ordinario o il regime semplificato i dati relativi al tuo codice ateco il codice ateco non è altro che un codice che contraddistingue ogni tipo di attività che esiste che dovrà essere più attivante possibile all'attività svolta nel caso di consulenti marketing il codice ateco da utilizzare è il 73.11.02 ma attenzione potrai utilizzare anche più codici ateco inserendo ad esempio un codice ateco principale e fino a 6 codici ateco secondari dunque effettuare più attività possibili contemporaneamente con lo stesso numero di partita iva ok chiarito questo adesso voglio passare all'ultima parte di questo video e cioè cosa posso fare per te allora mi sono già presentato io sono giampiero teresi e per primo in italia ho sviluppato un servizio di contabilità completamente online incentrato sul regime forfettario che ha una tariffa che di 39 euro al mese già comprensivi di iva tramite la quale io mi occupo di tutto mi occupo dell'apertura della partita iva della gestione della contabilità dell'invio della dichiarazione da redditi che il passaggio più importante nonché ti offrirò tutta la mia assistenza telefonica 365 giorni d'anno tramite il mio numero di telefono personale al contrario di molti commercialisti che si occupano di svariate materie molto differenti tra di loro come contabilità nel regime forfettario o nel regime ordinario semplificato o contabilità di società o di associazioni o di cooperative oppure di diritto del lavoro diritto tributario io ho deciso di specializzarmi solo esclusivamente nel regime forfettario questo perché penso che un professionista non possa essere completamente preparato in materie così diverse tra di loro quindi ho concentrato i miei studi e approfondimenti solo in questo regime fiscale ne conosco tutti i dettagli e ad oggi sono considerato uno dei maggiori esperti in italia nel regime forfettario farò tutto quello che fa un commercialista classico ma lo farò completamente online non sarà mai necessaria la tua presenza fisica quindi come primo passo aprirò l'autopartita iva dopodiché ti insegnerò ad emettere le tue fatture ti fornirò quindi dei prospetti in excel che serviranno ad emettere tutte le fatture nel regime forfettario le prime le compileremo insieme ti farò vedere come fare fino a quando non avrai raggiunta autonomia dopodiché ci sentiremo una volta al mese per un briefing mensile mi invierei così via mail quelle che sono le tue fatture messe eventuali acquisti e io porterò tutto in contabilità e poi una volta l'anno tra maggio e giugno invierò la tua dichiarazione di redditi da lì verrà fuori quello che è il calcolo delle tasse dei contributi previdenziali e quindi ti invierò i modelli f24 già precompilati per poter pagare le tue tasse e i tuoi contributi questa è un po la routine che svilupperemo ogni anno se dovessi avere qualsiasi altro dubbio sull'apertura della tua partita iva o se dovessi avere insomma bisogno di ulteriori informazioni su come funziona il mio servizio di contabilità ti invito a richiedermi una consulenza gratuita puoi andare sul mio sito regime trattino forfettario punto it in basso troverai un form di contatto e riempilo con tutti i tuoi dati per cui due dati personali il tuo numero di telefono esserò io stesso richiamarti entro qualche ora e cercherò di chiarire tutti i tuoi dubbi ti ricordo inoltre che ho anche creato un gruppo facebook si chiama regime trattino forfettario punto it consigli utili è un gruppo formato ormai da più di 9500 persone cerco di rispondere un po a tutti quei siti per cui ti chiedo anche di iscriverti al mio gruppo ok allora adesso ti saluto e se dovessi avere bisogno di me richiedevi pure una consulenza a presto